Pasquale Tarallo, vice sindaco del comune di Monte Corice, ma anche imprenditore e ristoratore, è intervenuto in diretta su Cilento Channel per parlare delle riaperture del 27 aprile e anche della situazione nel comune cilentano. Tarallo, sulle disposizioni della regione date dalle attività del settore della ristorazione per la riapertura, ha confermato le perplessità che ci sono a riguardo. La situazione è complicata, l'aria è tesa, i ristoratori e il comparto turistico vivono nell'incertezza, non sappiamo cosa ci aspetta e c'è un grande punto interrogativo sul futuro. Mi sto confrontando con tutti i miei colleghi, a noi non ci coinvolge quasi per niente. Facendo conti sulle spese e possibili guadagni, credo che non riaprirà nessuno. Bisogna capire che può valere per chi lavora già con la consegna a domicilio. Mi chiedo dopo il 18 maggio cosa sarà possibile fare. Qualcosa lo Stato ci deve garantire, sottolinea Tarallo, non si può far fallire un intero settore. I miei colleghi che hanno protestato vogliono essere messi in grado di lavorare, capisco il momento, ma non si può chiedere degli sforzi oggi a chi è chiuso da due mesi e non aiutarlo. Il vice sindaco di Montecorice fa delle considerazioni anche sul pensiero attuale dei proprietari degli stabilimenti balneari. Noi stiamo aspettando le decisioni del governo e regione, la fruizione della spiaggia è un altro punto interrogativo. Sto avendo una discussione con tutti i gestori e sono molto preoccupati per le responsabilità ci si dovrà prendere. È difficile pensare che possa capitare qualcosa di legato al contagio nella propria struttura, non si può lavorare così. Bisogna dare certezze agli imprenditori che hanno investito, conclude Tarallo.